Salve a tutti e benvenuti su AllPitsTV, al forio tanto prima o poi viene pure tu su AllPitsTV. Andiamo con un'altra piccola canzoncina dal titolo Passione. Vado, un, due e tre. La passione per fortuna non si può comprare. C'è chi ha bisogno sempre di trucchetti per poter arraffare, per poter arraffare, per poter arraffare. Prima o poi finirà la pacchia e verrà a galla qualunque tipo di macchia, qualunque tipo di macchia, qualunque tipo di macchia. Miseri nei valori, non c'è per sta gente mai sentimento. Meglio non avere niente, ma essere puliti è un vero godimento, è un vero godimento. Chi semina senza saper coltivare, sarà pronto a raccogliere nulla. Non può che rosicare, non può che rosicare, sapendo che niente mai in maniera leale potrà mai a casa portare. Portare a casa, portare a casa nulla, mai nulla, con le orecchie abbassate. All the best TV, all for you, tanto prima o poi viene pure tu. Buon ricerimento allo stato di fermo, ma quando mai, cavalloni giganti. Con questo vi saluto e vi rimando alle prossime. Come sempre, come sempre, all the best TV, all for you, tanto prima o poi viene pure tu. Arrivederci.